Per parlare un po' della situazione legata alla contingenza attuale a pochissime ore possiamo dire dalla decisione del sindaco Mastella abbiamo con noi ospite Giovanni De Lorenzo che è il segretario cittadino del PD di Benevento. Buonasera, grazie. Allora insomma voi avete detto dall'inizio, torniamo a parlare un po' della situazione legata a quello che sembrava nello scorso weekend una cosa fatta e cioè il connubio, il pactum sceleris come vogliamo chiamare tra Mastella e il PD per garantire la prosecuzione della consigliatura, voi vi siete in qualche modo arroccati e avete detto non se ne parla neanche. No ma non se ne è parlato neanche, non è che noi ci siamo arroccati, non c'è stato mai nulla né trattativa né niente, non c'è stato nulla, erano solo voci che probabilmente partivano da ricostruzioni di altro livello diciamo su questioni nazionali o regionali ma a livello locale non c'è stato mai nulla e noi abbiamo ribadito semplicemente quello che abbiamo deciso all'inizio di questo periodo di crisi al Comune e cioè che noi non avremmo aiutato l'amministrazione ad uscire dall'impasto in cui si è venuto a trovare. Vero è anche però che l'atteggiamento, la condotta del gruppo consigliare del PD e anche del partito perché il gruppo consigliare non è un organismo a parte, una costola, è l'espressione del partito in consiglio comunale. L'opposizione è stata fatta in maniera abbastanza blanda, se ne si è accorto praticamente nell'ultimo periodo quando si è pensato di creare un'argine a Mastella, da Corso Garibati si diceva che la migliore opposizione a Mastella era Mastella stesso, che può essere vero fino a un certo punto. Ma in realtà noi abbiamo vissuto delle fasi un po' diverse dall'inizio ad ora, siamo partiti in un certo modo anche numericamente, poi abbiamo perso dei pezzi per via che si sono spostati, trasmigrati, persone che sono trasmigrate nella maggioranza, adesso sembra siano ritornate in una fase di opposizione. Abbiamo iniziato il primo anno e mezzo con un'opposizione anche pubblicamente, non solo in consiglio, abbastanza forte, abbastanza frequente, poi dopo c'è stato chi ha continuato nella sua posizione anche in maniera continuativa, pubblica, noi da parte nostra nel circolo abbiamo provato a proporre delle iniziative diverse, un po' di discussione, un po' di confronto e devo dire che c'è stato anche riconosciuto e di questo ne sono contento. E poi nella sede opportuna che è il Consiglio Comunale, i consiglieri hanno fatto il loro dovere. E' pur vero che in questi quattro anni il Consiglio Comunale ha avuto un ruolo marginale rispetto alla vita amministrativa. Voi avete chiesto a gran voce che Mastella venisse a riferire in Consiglio della crisi in atto, cosa che non è... Così sarebbe stato opportuno. Ma questa è una crisi strana, perché Mastella non è stato sfiduciato da nessuno, né mozioni di fiducia sono state in qualche modo firmate a suo danno. Ma non ci sono motivi, nel senso che a parte quello che è stato scritto sui giornali, siamo in un momento di stallo più che di crisi. Cosa prevedete? Ci vorrebbe la palla di cristallo per stare nella testa di Mastella in questo preciso momento. Il problema è quello, nel senso che non ci sono segnali da parte di altro che non sia la decisione di un singolo. Poniamo il caso che Mastella decida poi di confermare le dimissioni, si dovrebbe andare a votare in primavera, insomma, maggio o giugno. E a quel punto come si fa a imbastire una campagna elettorale? Un candidato ci deve pure essere, insomma, avete in mente qualcosa che possa... Ma noi, no, allora noi ieri abbiamo iniziato un percorso, o meglio abbiamo ripreso un percorso, perché era un po' di tempo, qualche anno, che non si riusciva a riunire con una serie di partiti o di rappresentanti di partiti del centrosinistra, per cui si era creata anche una sorta di incommunicabilità fra diverse visioni anche della realtà, non solo cittadina, perché poi l'interpartitico di ieri ha avuto un ruolo innanzitutto interlocutorio, un po' per cominciare a discutere, ma anche e soprattutto per affrontare argomenti anche di livello provinciale, non soltanto cittadino, visto tra l'altro che al Comune non sappiamo se si voterà o no. Ed è chiaro che quello è stato un primo passo, poi l'intenzione è quella di condividere innanzitutto un metodo e un ragionamento per poter arrivare eventualmente ad un candidato se dovesse esserci le elezioni, ma soprattutto per iniziare a parlare di temi, o meglio di sviluppare dei temi e degli argomenti e fare una proposta che sia concreta e fattibile. Forza Italia nel comunicato che ha emesso questo pomeriggio ha invitato il sindaco a non dimettersi e ha fatto riferimento anche alla messe di finanziamenti che dovrebbero arrivare, 100 milioni, insomma, non è che molti sono in attesa di questo, molti consiglieri sono in attesa proprio di questo e per questo motivo spingerebbero il sindaco a non dimettersi. Questo non lo so, non posso saperlo e non mi azzardo a commentarlo da questo punto di vista. Certo che dal comunicato che è stato anche eletto, insomma, non mi sembra un motivo valido e nobile quello di dover gestire delle somme, il motivo per cui di dover ritirare le dimissioni, insomma, dovrebbero esserci argomenti di altro livello e di altra matrice per poter giustificare una prosecuzione di questa consigliatura, anche perché al momento non capisco nemmeno dal punto di vista dei numeri, una maggioranza dovrebbe esserci, quindi non so. Vedremo sabato cosa succederà. Grazie a Giovanni De Lorenzo, segretario del PD cittadino. Andiamo avanti con il giornale, parliamo della...